ecco dai 41 anni e non sentivo guarda la metà al contrario per le foto si grazie hello everyone hello mga be so for today's video let's go and come with me at magseselebrate tayo ng aking 41st birthday dito sa rome italy e non posso non roma Ecco il palazzo dei compressi Ecco questa è la piazza di San Pietro Paolo 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 La piazza di San Pietro Paolo